Nella retta delle tribune, lo stacco, lottano Schumacher e Schilla-Mask, si sbriga bene dalla seconda fila Skyrarch e K, cerca di conquistare lo steccato Schmidra scavalcando, almeno provando a scavalcare Saigon de Greppi, manovra che riesce, intanto insiste Schilla-Mask su Schumacher che sembra anche disposto a dare strada ma la manovra è un po' complessa, alla fine Schilla-Mask sfila su Schumacher Numero 7, Selvaggia Gris, squalificato, numero 6, Sonia, squalificato E ora c'è la punta di velocità di Skyrarch e K che va su Schilla-Mask, 30 e mezzo il quarto iniziale, in bocca della seconda curva, Skyrarch al comando davanti a Schilla-Mask Terza posizione alla corda per Schumacher, a largo risale swing del Ronco, intanto i 600 in 46 e mezzo Passaggio di fronte alle tribune, Skyrarch, swing a largo, in corda Schilla, davanti a Schumacher, a largo Spirit Roby, poi Schmidra con all'esterno Shogun dei greppi, ancora Saigon dei greppi, quindi Sara-Mask e in coda Sterlina-Tab Gli 800 in 1, 2 e mezzo, penultima curva, gruppo disposto in doppia fila, con Skyrarch al comando, swing a largo Poi Schilla e Spirit, Schumacher e Shogun, il primo chilometro in 1, 19 e pochi spiccioli, a 500 dal palo, swing in calza, Skyrarch che controlla Poi Schilla appostata in corda, 15 e una frazione per la retta di là, a largo in seconda pariglia, Spirit Roby, swing attacca, Skyrarch controlla Schilla lungo lo steccato, a largo Spirit Roby, poi Schumacher, intercede Shogun dei greppi, siamo a 200 dal palo, sbaglia Schilla-Mask Con Skyrarch che prova, swing a swing, swing si riorganizza e prova all'affondo, Skyrarch si difende, swing attacca, Skyrarch e swing Skyrarch che si difende ancora, swing guadagna ma sul palo, Skyrarch, swing, Spirit Roby, Schumacher, Schmidra, Skyrarch e K E' arrivato anche il primo successo per la famiglia Legati dopo tanti piazzamenti, due secondi e due terzi, il terzo nell'attrisco Resi Cosmos, stavolta c'è un primo posto, un primo piano per René Legati, chiusa la briglia, accento dal palo, Skyrarch si difende ancora bene Fino in fondo, dall'affondo, di un swing del Ronco che però è piaciuto, è piaciuto perché se l'è fatta tutta di fuori, oggi è dimostrato di sapere anche costruire Skyrarch al primo, swing del Ronco al secondo, il terzo posto per la sorpresona, Spirit Roby, Skyrarch e K, Paolo Leoni, colori della Indal, René Legati Il tempo al chilometro 1,169, la quota al totalizzatore dovrebbe essere di 3,49, con beneficio di inventario